l'arrivo di una pausa di due settimane in casa giallorossa può essere visto sia da un lato positivo che negativo allora positivo perché abbiamo due settimane di tempo per ricaricare le pile e cercare di capire in tutti i modi cosa non sta funzionando in questo periodo il lato negativo però è che appunto per due settimane ne sentiremo di cotte e di crude e visto com'è passionale il tifoso giallorosso ogni minima cosa ogni minimo fatto ogni minima vicenda che riguarderà un giocatore o un dirigente della roma verrà amplificata per cento volte ed è la stessa cosa che sto vedendo anche sui vari post sui vari social che parlano di un possibile rinnovo di florenzi che ha il contratto in scadenza nel 2019 con un aumento dell'ingaggio a 3 milioni di euro e ho letto tutti i commenti che parlano di una cifra spospositata e che dicono che il giocatore deve essere venduto subito al primo offerente purtroppo così quando un tifoso è troppo passionale e ci sono questi giorni vuoti che non possiamo neanche riempire con delle partite nella speranza di vedere la roma tornare a vincere qualsiasi cosa succede qualsiasi rinnovo qualsiasi dichiarazione qualsiasi foto qualsiasi cosa viene sempre triplicata perché ovviamente non sappiamo di cosa parlare in parole povere io però voglio parlarvi proprio di questa questione del fatto rinnovo florenzi e per dirvi se secondo me è meritata la cifra che prende allora diciamo che florenzi ha un ruolo ingrato nella rosa giallo rossa perché è l'unico giocatore che in questo momento è capace di adattarsi o comunque si può adattare su più ruoli in questo momento il problema della roma è proprio questo ci sono molti giocatori che non si riescono ad ad adattare ad altri ruoli come per esempio chic esterno offensivo senza fare niente colpa è però comunque è un dato di fatto che molti giocatori non riescono ancora a capire il proprio ruolo all'interno del modulo di di francesco mentre invece florenzi è l'esatto opposto dovunque viene messo ci gioca non è che si lamenta o altro ci gioca e si sta zitto qual è il problema però allora che secondo me e qua non picchiati mia questa è una semplice opinione personale florenzi non è un fenomeno non è un grandissimo giocatore allora per quanto riguarda attaccamento alla maglia tifo spirito di squadra sacrificio quello senza dubbio quello è in dubbio che florenzi è un vero e proprio tifoso in campo si vede comunque dalla grinta che ci mette dalle dichiarazioni che fa dallo spirito che mettono ogni partita dalle sultanze dopo i gol si vede che lui è romanista dentro quello non lo degna nessuno e non dico assolutamente che sia una cosa negativa anzi secondo me vedere giocatori che amano la propria squadra giocare per la propria squadra e appunto i collegiali rossi è una cosa bellissima senza alcun dubbio il problema però è che florenzi tralasciando questo discorso della romanità per me non è fortissimo qual è il problema è che florenzi essendo stato messo sempre su ruoli diversi non è mai riuscito ad abituarsi a un ruolo fisso e ad assimilarlo in tutto e per tutto vi spiego meglio quando il giocatore gioca per parecchio tempo sul ruolo a meno che non è proprio negato prima o poi comincia ad assorbirne le caratteristiche per esempio in angolan è un fenomeno però come trequartista ci ha dovuto lavorare su prima di essere veramente forte quando ha capito come fare i giusti movimenti quali palloni servire dove andare sul campo è diventato formidabile facendo 13 gol e portando la roma al secondo posto in champions league il problema di florenzi è proprio questo essendo stato messo una volta come mezzala una volta come esterno offensivo una volta come regista addirittura una volta come terzino destro essendo stato messo in quasi tutti i ruoli del campo non si è mai riuscito ad abituare ad uno specifico di conseguenza è sempre rimasto secondo me un giocatore buono in ogni ruolo ma in nessun ruolo fenomenale florenzi ci ha abituato ad alcune giocate sensazionali senza alcun dubbio il gol col barcellona da applauso e scena aperta il gol col sassuolo la cavalcata con il genua la rovesciata sempre con il genua il gol bellissimo con doppio controllo contro l'udinese florenzi ci è abituato a delle giocate così che escono dal nulla bellissime e quelle sono veramente fantastiche qua nulla da dire il problema però è che dal punto di vista prettamente tecnico mi sembro un po limitato diciamo che anche il ruolo di terzino secondo me non fa proprio per lui però purtroppo considerando l'infortunio di karsdorp e il livello non proprio esaltante di bruno peres ci deve stare lui in questo momento a meno che non prendiamo un terzino come one fran nel mercato di gennaio il problema è che tuttora non mi sembra adatto a fare il terzino perché qualsiasi avversario si trova davanti viene sempre quasi sempre uccellato che sia un papu gomez che sia un attaccante più forte un attaccante più veloce un attaccante più potente qualsiasi caratteristiche hanno florenzi va in difficoltà quasi con chiunque nelle partite in cui la roma ha attaccato di più però si è visto che lui si è proposto maggiormente però a livello di sostanza perde molti palloni in alcuni momenti distratto ha il 90 per cento dei suoi cross è sbagliato il suo apporto offensivo è molto spesso confusionario che altro è questo il problema diciamo che in questo momento trovarne uno che gioca bene è difficile mi vengono in mente i soliti alison ingolano che però è sottotono gecko che però è abbastanza altallenante in questo periodo di giocatori che giocano veramente bene in questo momento non ce ne sono e florenzi diciamo che ha ancora dietro di sé secondo me le scorie di quel doppio infortunio al crociato che l'ha tenuto fuori da ottobre 2016 fino all'inizio di questa stagione fino a settembre 2017 quello ci mancherebbe altro non sono certo il tipo che non guarda queste cose perché è normale tornare dopo un anno e passa con un infortunio al crociato è sempre difficilissimo però anche prima dell'infortunio mi è sembrato un giocatore poco determinante e secondo me non vale o comunque non merita di prendere quei 3 milioni che sembra gli vogliono dare io non con questo non voglio dire che deve partire subito che non sarà utile che è un giocatore scarso ci mancherebbe altro quello non lo dico assolutamente però considerando gli stipendi alla quale la roma è stata abituata comunque il monte ingaggi che la roma è stata abituata a mantenere nell'ultimo periodo florenzi prima di tutto non penso possa chiedere chissà qual è l'aumento di stipendio perché non è che ha migliorato così tanto da chiedere l'aumento un conte malalas che è stato sempre bravo e ha preso i due spicci calcisticamente parlando è un conte florenzi che comunque negli ultimi anni non mi sembra migliorato così tanto diciamo che ha avuto l'expload nel 2014 da di lì in poi è sempre rimasto su quei livelli e chiedere un aumento così di questo genere mi è sembrata un po' una tre che perderla a zero nel 2019 ma quello penso che anche un cieco lo potrebbe dire ci mancherebbe altro però francamente fossi stato in lui avrei aspettato di mostrare meglio le mie qualità e poi avrei chiesto un rinnovo per me la romanità conta ma fino a un certo punto per me in campo per quanto è bello vedere un tifoso romano uno con il cuore che ci mette la grinta voglio vedere sostanza voglio vedere cattiveria voglio vedere pochi errori per me se un giocatore viene dall'uzbekistan e gioca bene è meglio di un romano che gioca male qualcuno potrebbe dirmi ma cosa dici tu lo dici perché non sei di roma ma può essere sicuramente così e può darsi che io non essendo di roma non capisco molto bene questo discorso della romanità o cosa del genere però per me da tifoso della roma voglio vedere prestazioni buone dai giocatori che indossano la maglia della roma poi se magari riuscissimo ad unire la romanità con le prestazioni in campo ma sarei più felice del mondo però se dovessi scegliere tra un giocatore che gioca bene che non è di roma piuttosto che un florenzi che magari non è in forma sceglierei sempre il primo con tutto il rispetto del nostro sandrino che umanamente professionalmente parlando è uno dei giocatori più importanti e professionali che la roma ha avuto negli ultimi anni però anche se è tifoso da roma se sbaglia anche lui non è sento da critiche come in questo caso secondo me non merita un grandissimo aumento di stipendio perché le prestazioni che sta facendo fino a questo momento vuoi per colpa sua vuoi per colpa di di francesco corometti tersino vuoi per colpa anche della sfortuna che ti ha costretto a mettere florenzi tersino perché non era questo il suo ruolo principale in ogni caso fino a questo momento non mi sta entusiasmando lo sto dicendo con tutta la calma del mondo non lo sto certo accusando di chissà quale cosa però questa è la realtà dei fatti sei romano bellissimo però ti devi guadagnare la pagnotta sudando come gli altri secondo me fatemi sapere nei commenti voi che se ne pensate del possibile rinnovo di florenzi per 3 milioni all'anno consigliatemi qua sotto nei commenti altri argomenti da portarvi nei prossimi video un saluto e sempre forza roma ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.